Ciao, oggi faremo un video bellissimo, si chiama Cariola Challenge. Vi mettete a coppie, una grande e una piccola, e dovete prendere questi oggetti. Chi riesce a portare questi oggetti all'angolo, quindi la coppia che prende più oggetti vince. Va bene? Ok, allora, Giadi con Emma. Roby, Debbie con Letizia, Emma con Rosa e Roby con Irene. Bea, sei l'arbitro, ok? Vuol dire che vieni qua in postazione, controlli che tutti facciano bene, quindi una volta, prova a metterti in posizione, Emma dove stai andando? No, mettiti un attimo in posizione, prendi la Rosa. Prendi la sua, sì. Allora, guarda, eh, devi correre, prendo l'oggetto e torna indietro. Eh, l'ha perso? L'ha perso vuol dire che deve riportarla, riprendere l'oggetto e ritornare indietro. Ok, quindi deve sempre portare l'oggetto però in cariola, va bene? Ok? Sì, 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 una alla volta, bravissima che l'hai chiesto. Assolutamente una alla volta. Quando sono finiti gli oggetti diremo stop, vi fermate e vediamo quanti oggetti avete recuperato, va bene? Ok, allora, pronte? In posizione? Eh, Fada, vai dietro alla... ok, via! Guarda che devono prendere una alla volta, eh. Vai a mettere a posto quelli là che si sono tolti. No, Giada! Giada! Giada, fai il cambio! Giada, non puoi farlo te! Fai il cambio, vai Fada! No, ne ha presi due, ne ha presi due! Ne ha presi due! Dai, 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 che manca solo quello! Andate a prenderglielo! No, te l'ha fregato, te l'ha fregato! Vai Fada! Dai che ce la fai! No! Riprendili e rimettili in mezzo, Bea! C'è ancora un oggetto! L'avevi detto, eh! Ok! Allora, contiamo... Contiamo gli oggetti! Sette oggetti per la squadra di Roberta e Irene! È giusto, Irene? Sette! Sette! Bea! Contiamo gli oggetti della squadra di Deborah e Letizia! Fali passare bene! Benissimo! Contiamo gli oggetti per la squadra di Emma e Giada! Tre! Contiamo gli oggetti di Emma e Rosa! Quanti? Otto! Otto! Vince! Questa sfida... La squadra di Emma e Rosa! Brava, Rosa! Volete farne ancora? Volete giocare un'altra volta? Sì! Sì? No, la piccola deve correre! Ma noi no, noi siamo prima ormai, lo fanno loro per il secondo posto? No! Poi vedi che da un certo punto la fanno facendo la piccola! Dai, che mi è piaciuto troppo! Sì! Sì! Eh? Ma si può? Sì! Ma la io dove fa a tenermi? No, no! Facciamo sempre così! Pronte? Attenzione! Pronte? Pronte? Via! Bea, vai a prendere la palla e riportala in mezzo! Rimasto uno, è rimasto uno! Come prima! Benissimo! Brave! Brave! Più esperte adesso, eh! Ok, vediamo! Quanti oggetti ha la squadra di Roberta e Irene? Sette, come prima! Brave! Quanti oggetti ha la squadra di Deborah e Lety? Sei come prima! Sei come prima! Ok! Dai, molto meglio! Hai visto? Quanti oggetti? Sei! Bravissime! Ottimo! Ta-ta-ta-ta! Cosa c'è? Cosa c'è? Cinque! Cinque oggetti! Quindi? Non ho capito, Irene? Hai vinto! Bravissime! Perfetto! Allora, siete uno a uno, giusto? Sì! Terza manche! Sai cosa potremmo fare? Sai cosa potremmo fare? Cosa potremmo fare? Mettetevi a posto! Ok! In questo senso, le piccole girano! Gira! Le piccole girano! Sì! Sì! Pronte? Via! Bea, vai a mettere a posto i due della fada e ne ha presi due! Bea, anche l'elastico azzurro! No! No, la palla è giusta! La palla è giusta all'elastico! Ok! Bravissime! Cioè, hai lanciato il cronometro, hai lanciato tutto! Ok! Bravissime! Vediamo! Allora! Quanti oggetti? Perché? Hanno barato? Quanti oggetti? Quanti oggetti? Sì! Sì! Ho preso il cronometro! Questo non pare perché non è tutto! Sì! Ma che non è tutto! Sì! No, 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 questo non è... Ok! Allora, questo riprendilo, Bea, quello lì! Quindi quanti ne hai? Uno, due, tre, quattro, c... Otto! Otto per la squadra di Roby! Emma? Cosa c'è? Emma? Quanti? Cinque per la squadra di Deborah e Emma? Quanti sono? Sei! Sei per la squadra di Giadi e Rosa? Io ne ho fatto già! Perché quanti ne avete? Quattro! Quattro per la squadra di Emma e Irene? Vince la squadra di Roby e Letizia! Bravissime! Ciao! 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 Grazie.